Ciao a tutte! Oggi vi faccio vedere come mantengo i miei capelli fucsia. Come in tutti i video in cui faccio i capelli, faccio la premessa che non sono una parrucchiera, non ho fatto corsi, non ho fatto niente, semplicemente sono autodidatta. Quindi tutto quello che dico, tutto quello che faccio, prendetelo con le pinze. Non è oro colato. Io ho fatto pratica sui miei capelli per anni, ho imparato a conoscerli, infatti i prodotti che utilizzo so che effetto hanno sui miei capelli. Se non siete pratiche, avete i capelli delicati o non sapete bene come fare, rivolgetevi a una parrucchiera. Io la prima decolorazione su tutti i capelli e tante altre decolorazioni le ho fatte dalla parrucchiera, mentre adesso vado a fare il ritocco della ricrescita da sola. Ovviamente non viene perfetto, infatti su alcune zone i capelli un pochino più scuri, ma se voglio le cose fatte perfettamente vado dalla parrucchiera appunto. Sto utilizzando una polvere decolorante abbinata a un ossigeno da 20 volumi, perché avendo i capelli biondo scuro, castano chiaro, per arrivare a una tonalità bionda utilizzo appunto questi prodotti. Come vedete mi aiuto col pettinino per dividere bene le zone e andare a mettere il colore solo sulla ricrescita. Non lo metto su tutti i capelli perché sennò le punte che in realtà sono già bianche mi si sciolgono. Quindi vado a metterlo su tutti i capelli, facendo bene attenzione a metterlo in tutti i punti, e poi davanti, vedete, per non tralasciare nessun punto. E mi faccio anche aiutare dal mio ragazzo perché dietro ad esempio non riesco a vedere bene quello che faccio e quindi mi faccio aiutare da lui. Con un po' di pratica ho iniziato ad essere sempre più brava, però dietro non è facile. Infatti adesso gli sto dando indicazioni su come fare. Una volta mi aiutava mia mamma, adesso mi faccio aiutare da lui. Alcuni punti, come vedete, sta prendendo le ciocche un pochino più grosse, ma poi, una volta finito tutti i capelli, vado a spostare le ciocche pian piano per andare a vedere se ho messo il decolorante in tutti i punti. Se così non fosse, ci ritroviamo con una macchia nera. Cosa che mi è successa l'altra volta è che ho fatto i capelli di corsa e da sola. Quindi, altro consiglio, abbiate pazienza e tanto tempo da dedicare a questi passaggi. E se avete qualcuno che sa un po' fare i capelli, fatevi dare una mano. Non da il primo fidanzato che vi capita sotto mano. Però dai, diciamo che per essere la prima volta è stato molto bravo e ho seguito le indicazioni, i capelli sono venuti bene. E una volta che finisco di mettere decolorante su tutti i capelli, vado a massaggiare un po' la cute, in modo tale da spalmare, tra virgolette, il colore dappertutto. Mi ho lasciato in posa una mezz'oretta, se non ricordo male, e poi ho sciacquato bene tutti i capelli e fatto uno shampoo per togliere l'eccesso di prodotto. La decolorazione la vado a fare sui capelli sporchi, perché c'è un piccolo strato di sebo che va a proteggere la cute. Mentre con i capelli puliti non avremo questo strato e potremmo irritare un po' la pelle. Adesso sto andando a mettere il colore. I capelli sono bagnati e tamponati. Non ho messo balsamo, ho solo fatto lo shampoo, perché questa crema colorata che mi sono fatta dare dalla parrucchiera e che vi farò vedere in un video, è un balsamo colorato, praticamente. Quindi lo vado a mettere su tutte le radici, come vedete, aiutandomi col pennellino in modo da essere più precisa. Sì, abbastanza, perché come vedete lo sto facendo velocemente, ma essendo un prodotto cremoso e non proprio liquido, ma bello morbido, quindi anche se non prendo bene le ciocche, dopo quando vado a massaggiare tutti i capelli prende bene un po' dappertutto e sono abbondante con la dose. Mentre poi questo prodotto lo utilizzo anche come balsamo. Ormai è poco più di una settimana che ho questo colore, ho fatto diversi lavaggi e non ha scaricato quasi niente. Cioè l'acqua diventava rossa, ma in realtà i miei capelli restavano belli intensi. Quindi di questo prodotto vi parlerò in un video che farò a breve. Mi sta piacendo molto. Colori ne ho provati diversi e anche di questo vi farò una recensione. E per il momento questo è uno dei migliori che ho provato. In testa sembra rosso, infatti mi è venuto un mezzo infarto mentre lo stavo mettendo, perché poi ho letto la confezione, c'è scritto rosso ciliegia. Io alla mia parrucchiera avevo chiesto un fucsia, quindi ho detto cavolo, o si è sbagliata, perché una volta prendevo un prodotto di un'altra marca che si chiamava Amarena, però quando lo mettevo in testa era fucsia. E quando ho visto questo rosso, che in realtà in camera non si vede proprio il rosso rosso, pensavo di venire fuori tipo Ariel. Invece poi, per fortuna, quando sono andata a sciacquarli, erano un bel fucsia. Devo essere sincera, nella ripresa finale non si vede benissimo proprio l'effetto che ha, perché sembra quasi rosa più che fucsia fucsia. Quindi, se volete andare a vedere bene l'effetto, potete andare su Instagram, che lì ci sono delle foto. Come vedete, intanto compare il mio fidanzato. Mi raccomando, quando fate questo lavoro, sia la decolorazione che la colorazione, mettetevi i guanti, perché nella colorazione vi ritrovate le mani viola, mentre nella decolorazione rischiate che vi secchi e vi rovini le mani. E anche l'abbigliamento, utilizzate qualcosa che se si sporca, se si macchia o si rovina, potete prendere e buttarlo via. Cioè, io utilizzo sempre le stesse magliette, in modo che se si macchiano non ho problemi, li provo a lavare, infatti questa maglia è storica e per il momento sembra anche abbastanza pulita. Però delle volte ci sono delle macchie e provo a lavarle, ma poi lo uso per questi lavori qui. E anche tappeti, togliete tutto. Fidatevi che non andate a rovinare le cose di mamma. Infatti mia mamma mi odiava quando ero a casa, perché le macchiavo tutto. E come prima, vi fate dare una mano da qualcuno per fare la parte che non vedete. Però essendo un prodotto abbastanza cremoso, potete andare ad applicarlo tranquillamente con le mani. Fate bene tutte le radici e poi io vado sulle lunghezze. È una crema colorata, è anche una maschera, quindi potete tenerla su anche un'ora che vi nutre un po' i capelli. Ovviamente non è una maschera ristrutturante o particolare, però è bella nutriente. Infatti i capelli in questo momento, come li vedete, sono in condizioni pietose. Infatti ho le lunghezze che pensavo sarebbero sciolte, perché poi quando il colore va via le lunghezze diventano secche perché sono praticamente bianche, non hanno più struttura e quindi quando va a togliersi il colore iniziano a seccarsi ed essere un pochino più rovinate. Per quello io preferisco questo balsamo colorato alle tinte vere e proprie perché dopo qualche lavaggio quando inizia a scaricare un po', potete metterlo come un balsamo normale. Ovviamente se vi fate solo le punte o se vi fate qualche ciocca è più facile. Io facendo tutta la testa, andare a mettere il balsamo su tutti i capelli ogni volta che faccio la doccia è difficile. Mia sorella si è fatta i capelli arancioni, ma quell'arancione naturale, diciamo, e ha fatto proprio la tinta tinta. E per mantenere questo colore la parrucchiera le ha dato lo stesso prodotto che sto utilizzando io ma sulla tonalità arancione e lei avendo già una tinta sotto lo mette come se fosse un balsamo normale e lei mantiene il colore. Mentre io avendolo non tanto naturale se non lo metto bene in tutti i punti si vede. Quindi cerco di farlo quando inizio a scaricare di farmi una bella maschera su tutti i capelli e poi andare a sciacquare. Come vedete, sulle lunghezze vado a metterlo semplicemente così con le mani. Potete utilizzare anche il pennello però io sinceramente faccio prima con le mani, vado a pettinarli bene e poi come sempre mi faccio aiutare per vedere se è messo in tutti i punti. Anche se ho qualche ciocca scura che si vede, con questo colore bello intenso non si nota poi così tanto. Quindi vedrete anche il risultato finale anche con la luce naturale se andate a vedere le foto su Instagram non si vedono così le macchie diciamo. E se non fai da te non posso fare le cose perfettamente. I capelli a decolorarli così ammetto che si rovinano. bisogna ogni tanto tagliare le punte fare attenzione per quello io cerco di non stressarli troppo con phon, piastre io avendo la fortuna di avere i capelli perfettamente dritti la piastra non la uso praticamente mai il phon lo utilizzo soprattutto in questa stagione che fa più freddo d'estate non lo uso quasi mai e quando uso il phon cerco di utilizzare un prodotto che protegga i capelli dal calore. Però la soddisfazione di avere questi capelli colorati non me la taglia nessuno quindi continuerò così finché non mi stancherò. E come vedete questo è il risultato finale i capelli si pettinano tranquillamente non mi si spezzano cioè qualcuno sì ma non come quando ho i capelli bianchi praticamente perché sono un po' nutriti e mi piacciono veramente tanto intanto le dita si bloccano perché sono capelli un po' rovinati e il colore è più fluo cioè è veramente più fluo di quello che vedete e mi piace tantissimo vi farò altri video in cui vi farò vedere i miei capelli e fatemi sapere anche voi di che colore avete i capelli in passato ho provato tanti colori ma devo dire che questo è quello con cui mi trovo meglio secondo voi come mi sta? fatemi sapere nei commenti qua sotto cosa ne pensate se avete consigli su come farli meglio e come avete i capelli colorati voi o come vi piacerebbe farli e noi ci vediamo al prossimo video anche dove vi parlerò di tutti i prodotti che utilizzo vi mando un grosso bacio un saluto e ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanella per restare sempre aggiornati ciao ciao